l'altra volta abbiamo visto che il modello copernicano di cui vedete un animazione riesce a spiegare molto bene il moto retrogrado dei pianeti perché perché la terra come vedete va più lenta di marte nella sua orbita lo sorpassa e quindi vede marte tornare indietro il modello copernicano però includeva anch'esso degli epicicli ricordatevelo bene perché altrimenti non riusciva a spiegare comunque correttamente il moto dei pianeti e inoltre questo questo modello contenuto nell'opera che vedete scritta qui de rivoluzionibus orbium celestium del 1546 fu presentato dal suo autore fin dal principio come un un modello matematico non tanto una descrizione re corretta della realtà no sono presentato con un modello matematico e per spiegare meglio il moto dei pianeti inoltre il 1543 era anche l'anno della morte di copernico la leggenda dice che la prima coppia delle rivoluzioni bus fu portata a vedere quando era già sussoletto di morte per cui chiaramente nessuno poteva sognarsi di perseguitarlo naturalmente inoltre copernico oltre a mantenere gli epicicli manteneva la teoria delle due fisiche cioè il moto terrestre è basato sul moto di effetto accelerato dall'alto verso il basso mentre il moto celeste è basato sul moto circolare uniforme dell'etere quindi i pianeti ruotano per via perché l'etere ha un unico tipo di moto naturale possibile che è appunto il moto circolare uniforme qui non era sta sta gran rottura rispetto alle tradizioni passate inoltre a quell'epoca non vi era quel conflitto tra chiesa e scienziati che invece cominciò qualche anno dopo mi pare che ve l'ho detto che colui che si scagliò fin da subito invece violentamente contro il modello copernicano fu martì lutero il famoso riformatore martì lutero come sapete era un monaco agostiniano che venne a roma e si accorse che la la città eterna era in preda alla corruzione leone decimo figlio di lorenzo magnifico si chiamava se non mi sbaglio a seo giuliano de medici al secolo ebbene lui si preoccupava soltanto di costruire chiese monumenti belli e per avere i soldi si è messo a vendere indulgenze se tu mi dai soldi l'anima del tuo parente la dal purgatore in paradiso è chiaro che lutero si è scandalizzata ha protestato aveva tutte le ragioni per protestare da qui dalla sua protesta deriva il termine protestante che però devi così non usare io uso il termine cristiani evangelici che secondo me più corretto in ogni caso è noto che lutero scrisse un pamphlet in cui scorticava vivo copernico e la sua teoria e anche gli altri informatori evangelici erano sulla stessa lunghezza d'onda in ogni caso però questo modello copernicano vi ripeterò presentato con un modello matematico chi fu che per primo presentò delle prove a sostegno di questo modello no guarda che l'universo è fatto proprio così non è come diceva tolomeo è stato galileo galilei il grandissimo fisico nato a pisa era figlio di vincenzo galilei che era invece un famosissimo musicista lui e claudio monteverdi sono stati tra i fondatori dell'opera lirica come la conosciamo oggi infatti vincenzo sperava che suo figlio facesse anche lui musicista ma lui gli ha detto padre voi mi avete detto come seguire su inclinazioni no io vorrei studiare la matematica anche la musica è una parte la matematica cioè allora il padre ha detto beh non è il contrario allora no e allora quello studiato infatti è diventato un grande matematico non soltanto un grande teorico pare che fosse abilissima costruire strumenti come quadranti per misurare l'ascensione retta delle stelle astrolabi poi cannocchiali come sappiamo bene alcuni di questi strumenti si conservano ancora bene galileo sarebbe stato un astronomo come tanti altri se non fosse stato che aveva una fortuna in quegli anni a slipper si un ottico olandese aveva inventato il cannocchiale appunto ponendo due lenti all'estremità di una canna e guardando attraverso questo sistema era possibile ingradire di molto gli oggetti ora galileo perché come vi ho detto era bravo con le mani perfezionò questo sistema e poi cercò di venderlo al doge di venezia guarda che con questo puoi vedere gli eserciti che arrivano prima erano anni in di continue lotte tra gli stati dell'epoca e quindi una cosa del genere poteva anche far comodo però al doge l'invenzione non piacque non la comprò e allora galileo e niente non codice cosa me ne faccio di questo adesso l'ha puntato verso il cielo ecco questa è stata la vera rivoluzione si parla spesso di rivoluzione copernicana ma il progetto della rivoluzione copernicana più che copernico il mite sacerdote polacco e per protestare l'evoluzione copernicana è stato il battagliero galileo il quale ha veramente proprio immaginare signorina alice risetti mi sente alice c'è boh forse non riesce a connettersi fa niente l'esserina alice donadello vi sente invece bene però immaginare che lei è stata costretta tutta la vita da quando è nata fino adesso a vivere una stanza chiusa più o meno buia dove ci sono soltanto gli scuri da qui entrano soltanto poche fenditure di luce sarebbe stato un ambiente un po triste cosa dice un modo un po triste cosa ne pensa immagini che arrivo io e improvvisamente spalacco le porle le finestre gli scuri e lei può guardare fuori vede il mondo lei che impressione ha un'impressione straordinaria cosa dice alice è stessa cosa che ha fatto galileo prima di galileo l'occhio di lince più occhio di lince della terra non poteva vedere più di 5.000 6.000 stelle occhio nudo oggi sappiamo grazie ai telescopi che sono il perfezione tecnocchiale galileo che nell'universo ci sono almeno 100 miliardi di galassie c'è alcuna delle quali contiene almeno 300 milioni di stelle per non parlare di tutti gli altri corpi celesti pulsar buchi neri grava star eccetera che infestano l'universo per cui capite che ha completamente cambiato il modo di vedere l'universo nel 1610 ve lo scrivo qui sul gem gallileo pubblicò un'opera fondamentale il sidereus nuncius è scritto in latino l'annuncio siderale le lo sa signor io vino perché si dice spazio siderale no sideros in greco vuol dire ferro le metti da cui siderurgia delle meteoriti sono fatti di ferro e quindi ecco perché spesa guarda lo spazio fatto di ferro e quindi lo spazio siderale e quindi anche l'annuncio siderale mi ricordo che quando ero bambino avevo letto su tofolino una storia intitolata zio paperone il botto siderale e mi ricordo che voi chiesto mia ma cosa vuol dire siderale allora mi ha spiegato sta storia del ferro quando ero bambino per la prima volta ebbene quest'opera contiene le scoperte fatte da galileo con il canocchiale e sono le quattro prove che gli porta al modello copernicano queste quattro prove vi chiedo di ricordarle così come vi chiedo di ricordare le prove della sfericità della terra del resto se mi seguite non è così difficile ricordarle tanto per cominciare lui punto il telescopio verso la luna e scoprì una cosa incredibile e vi sto facendo vedere adesso scoprì che la luna è coperta sì veramente io ho detto montagne della luna ma non ma cercato tutt'altro trovo un'altra un attimo riprovo perché non ha cercato non ha trovato un'altra cosa terrestre vediamo se eccolo qua finalmente scoprì che sulla luna come vedete ci sono montagne valli crateri esattamente come sulla terra quindi la prima scoperta sono le montagne della luna però scusate dante ve lo vedrete in quinta descrive la luna come una sfera di etere perfetta e dice che le macchie sono dovute all'influenza delle stelle che passano dietro galileo dice no non è così la luna non è affatto una sfera perfetta la luna è coperta di montagne di picchi di valli esattamente come la terra non c'è una fisica celeste e una fisica terrestre ce n'è una sola questa si chiama rivoluzione unificare la fisica terrestre e la fisica celeste ma non basta lui tutte le coppie verso il sole ovviamente non un occhio nudo se no sarebbe diventato cieco ben prima di aspettare la sua vecchiaia niente osservò un'altra cosa di cui nessuno si aspettava l'esistenza le macchie solari cioè sole non è una sfera di fuoco omogenea presenta la sua superficie delle macchie scure addirittura nere come avete visto no in realtà queste macchie si trovano alla temperatura di 4000 kelvin ma sono più fredde della superficie circostante che a 6.000 kelvin e mettono meno luce ed ecco perché c'è per oscure ma realtà se fossimo lì sarebbero così luminose da abbaccinarci completamente in ogni caso queste macchie solari si muovono girano intorno al sole quindi il sole ruota su se stesso tra l'altro con velocità differenziale perché essendo una massa di plasma il l'equatore gira più velocemente di poli in ogni caso possiamo scordarci la sfera perfetta e quindi le montagne luna e le macchie solari dimostrano che c'è una fisica sola non c'è una fisica terrestre e una fisica celeste d'accordo e già questa da sola serve una rivoluzione ma non basta lui punta il cielo verso venere e scopre una cosa incredibili che anche il venere ha delle fasi esattamente come la luna lo vedete qui guardate queste immagini il mio sito spero che la vedi attitudine su meet vedete che venere si presenta piena di quarto e falce però una cosa strana perché quando è quasi piena è piccola e quando lo vedete qui quando una falce è molto più grande come spiegare questo fenomeno c'è un solo modo questo il sole questa è l'orbita di venere che più interna e questa è l'orbita della terra secondo il modello tolemaico ora noi siamo qui quando venere è in congiunzione cioè è dall'altra parte della terra rispetto al sole beh è illuminata in pieno sole davanti e quindi appare piena però è lontana e quindi più piccola invece quando è in opposizione cioè si trova tra la terra e il sole allora è chiaramente appare illuminata da dietro da tergo e quindi ne vedo soltanto sottile falce però è più vicina e quindi è più grande mi sono spiegato signorina rachele se mi sente o devo ripeterlo bene quindi l'esistenza delle fasi di venere dimostra incontrovertibilmente che venere non ruota intorno alla terra ruota intorno al sole se no avrebbe sempre la stessa dimensione indipendentemente dalle del tipo di fase in cui si trova e poi c'è la scoperta più che la tante di tutte quando nelle notti intorno al natale nel 1609 guarda che coincidenza galileo osservò il pieta giove e si accorse che giove ha delle lune esattamente come ce l'ha la terra qui vedete una immagine ripresa a con un telescopio moderno buono terrestre dei quattro satelliti di giove scoperti da galileo si chiamano i satelliti medici lavorava per cosimo secondo il graduca di firenze e allora per ringraziarsi il potere e la sua protezione li ha chiamati in questo modo no un po come se se galileo fosse vissuto negli stati uniti di questi anni li avesse chiamati i satelliti trampiani per dire in ogni caso eccoli qua basta inserire qua come vedete lunedì giove per trovare delle immagini ecco qua lunedì dove vedete che sono tantissime ma io mi riferisco alle quattro lune scoperte naturalmente da galileo si può anche far così andiamo a pagina 2 del gem faccio così google ricerche immagini poi ci metto e qui vedete che si può trovare se esiste un'immagine veramente neanche una tanto bella di quelle che speravo io è riprovo satelliti medici giove proviamo niente cerchi un'immagine alla fine uno deve fare si chiamavano questi quattro satelliti io europa ganimede e callisto così almeno li ha chiamati eccoli qua finalmente ho trovato l'immagine che cercavo ecco qua sono i nomi dei quattro satelliti di giove scoperti da galileo io questo europa ganimede e callisto in ordine il più vicino io il più lotano e callisto sono i nomi di quattro mitologici amanti del dio zeus sì lo so ragazzi che tre erano femmine e uno era un maschio ma sapete che zeus non ve lo devo raccontare io era un noto bisessuale si innamorò per esempio di ganimede che era il figlio del re di troia ed era il giovane più bello della terra allora si trasforma in acquira lo ferrò e lo portò via lo portò sull'olimpo dove lo fece diventare immortale e ne fece il coppiere degli dei nonché il suo favorito dante nel decimo canto del purgatorio rievoca questo mito dicendo ed essermi parea laddove fuor abbandonati sui da ganimede quando fu ratto a sommo consistoro ovviamente sommo consistoro è l'olimpo invece io nonostante il suo nome era una ragazza era una bellissima donna che fu amata da zeus in questo caso era era cioè giunone la moglie di zeus che era gelosa allora fece rapire io la trasformò in una giovenca e una vitella e la diede in custodia ad argo il gigante mitologico con cento occhi di cui cinquate erano sempre aperti anche mentre dormiva per cui era un po difficile farglielo sotto il naso solo che zeus ha incaricato a ermess il dio dei furbi il quale ha suonato nina nanna sulla cetra allora per un momento tutti i cento occhi di argo si sono chiusi ermess l'ha ucciso ha portato via io e lo sa lara per ringraziare argo dove ha messo giunone i cento occhi di di argo no immagino in cerno no sulla coda del pavone a giusto giusto sì ma l'avevo già sentito e vede ecco spiegato perché il pavone i cosiddetti miti enziologici ve l'ho già spiegato sono quei miti haitia vuol dire le cause in greco sono quei miti che vogliono spiegare le cause delle cose no invece europa era la figlia del re a geno re di fenicia che fu rapita da zeus che si trasformò stavolta in un toro no europa di salini spalla quello si buttò in mare e la portò a creta e lì da lei ebbe due figli minosse e radamanto minosse il famoso re di creta i quali questi due di vennero sapete dopo la morte che cosa di vennero secondo la mitologia greca minosse radamanto qualcuno di voi lo sa divennero i due giudici dell'oltre tomba infatti lì lo trova dante minosse starvi minosse ribimente ringhia esamina le colpe all'entrata giudica e manda secondo caviglia e calisto bella bocca mi pare che vuol dire in greco insomma era un'altra donna bellissima amata da zeus ed ecco notate che io a uno strano colore giallo quel giallo deriva dallo zolfo perché è uno dei pochi pianeti del sistema solare che ha vulcani attivi oltre alla terra in in cielo due satelliti saturno tritone satelliti nettuno e io in pratica io ruota così vicino a giove che la trazione gravitazionale provoca tali forze mareali da fondere la parte interna di io per cui lo zolfo emerge sotto forma di lava da questi vulcani e ricopre tutta la superficie inoltre forze ma reali agiscono anche su europa la quale come vedete ha una superficie terribilmente ghiacciata infatti se qui metto dentro guardate in nel motore di ricerca se metto dentro superficie europa anzi forse meglio superficie luna europa se non mi viene fuori il continente allora vedete che la superficie di europa è molto strana vedete è fatta di ghiaccio ricoperto di queste striature ricorda il pack antartico vedete che si frattura si ecco molto probabilmente sotto questo specie di ghiaccio c'è un oceano un oceano di acqua salata e che è mantenuto liquido dalle forze mareali di giove infatti la nasa aveva pensato a una missione che andrebbe su europa e trivelerebbe ghiaccio per studiare l'interno e vedere se ci sono microrganismi o simili perché in teoria la vita potrebbe nascere sulla terra la vita è nata intorno alle fumarole calde dell'oceano è però in questo momento la nasa ha fatto dei tagli terribili al budget e quindi mi dispiace per lei caro armiraglio ma dovrò aspettare ancora un bel po prima di assaggiare i pesci pescati su europa ammesso che ce ne siano naturalmente in ogni caso secondo me sono buoni prof spero naturalmente ecco qua vede l'oceano sotto il ghiaccio e i vulcani sopra che emettono vapore acqueo vabbè comunque queste foto qua sono state scattate dalla sonda americana voyager 2 quando io ero un ragazzo e fecero il giro del mondo queste foto ghanimede tra l'altro è più grande di mercurio è un vero pianeta se non ci fosse giove sarebbe visibile occhio nudo nonostante la distanza è non si vede perché è immerso nella luce di giove ci vuole il canocchiale in ogni caso comunque questa scoperta è quella che fa più rumore di tutte perché se ci sono le lune di giove vuol dire che bucano le famose sfere di etere che reggevano i pianeti e quindi che non c'è nessuna sfera di etere e quindi il modello aristotelico barra tolemaico è distrutto capite che si tratta di prove rivoluzionarie e infatti galileo fu ammonito una prima volta dall'inquisizione a non insegnare questa teoria perché era già in atto un forte scontro cos'era successo appunto la riforma protestante causò il fatto che la chiesa cattolica si chiudesse a riccio e rifiutasse piuttosse qualunque novità che poteva mettere in dubbio la dottrina esattamente come nell'ottocento l'errore si ripetè perché quando ci fu il risorgimento e il regno d'italia riuscì a conquistare il lazio e niente invece di trovare un modo sviventi i papi si chiusero in vaticano rifiutando qualunque compromesso con lo stato liberale no con tutte le conseguenze che ne sono venute che i cattolici sono stati esclusi per decenni dalla vita politica insomma decisamente un costo dimostra che pio nono è stato sicuramente un grande papa dal punto di vista del guida spirituale ma non di sicuro dal punto di vista politico ha dimostrato attenzione grande miopia politica un po come se uno un imam dicesse ai palestinesi dovete assolutamente non andare a votare le elezioni israeliane bravi e così vince la destra israeliana e addio capite stesso errore politico che fu commesso allora ebbene la chiesa nel cinque seicento si chiuse riccio e rifiutò ogni novità che poteva sembrare pericolosa era lo stile il periodo della controriforma no e quindi che il modello per micane fu rigettato e galileo fu una prima volta ammonito a non insegnare la teoria copernicana più tardi salì sul sogno di pietro un vecchio amico di galileo mafio barberini che prese in nome di urbano ottavo e allora rincuorato dalla tale lezioni suo amico del quale poteva pensare di godere della protezione pubblicò un'altra opera fondamentale il dialogo sui massimi sistemi del mondo che è veramente una pietra miliare della storia della scienza ma anche della storia della letteratura italiana perché si tratta di un'opera dal valore letterario siamo nell'anno 1632 galileo che già abbastanza anziano la pubblica come sapete come il dialogo sulle sue nuove scienze a tre protagonisti salviati sagrede simplicio semplice aristotelico che ci fa una magra figura mentre salviati che galileo trionfa facilmente sfortunatamente però i gesuiti convinsero papo urbano ottavo che nella figura di simplicio galileo vese inteso prendere in giro proprio il papa e allora galileo fu convocato a roma e lui ebbe la brutta idea di andarci vedete che paolo sarpi il suo amico veneziano non ci andò quando l'inquisizione lo convocò a roma subì anche un attentato è paolo sarpi per non esserci andato comunque galileo ci andò convinto che avrebbe difeso le sue opinioni di fronte a degli scienziati che erano disposti ad ascoltare anche opinioni diverse dalle loro e discutere in maniera oggettiva e invece la si trovano avanti alcuni del tubo dell'acquisizione e non ci fu nessun dibattito ci fu un processo in cui quelli ragionavano a colpi sacra scrittura ma guardate che cannocchiale ma che cannocchiale le sacra scrittura e dicono che e allora avete capito che di questo passo è un po' difficile ragionare no è come siamo a livello dei terapiattisti moderni no e ma la sacra scrittura dice che è sì la sacra scrittura però in ogni caso comunque ragazzi miei galileo alla fine ti furono per se ho fatto vedere le macchie tortura e anche se non le avrebbero mai usate perché va già quasi 70 anni in ogni caso alla fine decise di per farla breve di ritrattare stanco e anche sfiduciato perché anche i suoi ex amici non lo avevano sostenuto decise di ritrattare io dichiaro essere fa sta dottrina copernicana che la terra e la leggenda dice che è conclusa e pur si muove insomma così avrebbe dato un colpo di coda finale fu condannato al cofino vita nella sua villa di arcetri una prigionia dorata e sarebbe come se berlusconi fosse condannato al cofino vita nella sua vita di antigua insomma una bella prigionia dorata aveva dovuto recitare tutti i giorni salvi penitenziali ma lui li faceva recitare a sua figlia che era il suor di clausura per cui anche questo problema l'ha risolto e comunque visse abbastanza libertà gli ultimi anni che gli restavano perché scrisse l'altra famosa opera il discorso di dimostrazione matematica sulle nuove scienze che però dovete essere pubblicate a lei da in olanda perché in italia era impossibile per i ben noti motivi galileo si spense il 7 gennaio del 1642 a 77 anni purtroppo cieco lui che aveva aperto gli occhi dell'umanità sul sullo spazio purtroppo morì c'è coppa con beethoven che purtroppo morì sordo o christopher rive supermente decisivo che voli paralizza paralizzato da anni no comunque la sua opera di sopravvissuta perché sapete benissimo che nel 1751 papa belledetto quattordicesimo fu costretto a gettare la spugna dire no guarda aveva ragione galileo è la terra che ci ha detto il sole non viceversa no ormai era non si poteva più negare l'evidenza però bisogna aspettare addirittura fino al 1992 quando una vecchia conoscenza giovanni paro secondo finalmente fece rifare il processo canonico e fu formalmente cancellata la la condanna a galileo dopo 300 e e più pantani meglio tardi che mai no galileo è stato definitivamente riabilitato e oggi per fortuna gode del prestigio che si è meritato niente il naturalmente cos'è allora con la codanna in galileo il modello copernicano muore qui mica tanto no interverrà un altro personaggio ioannes che player latino italianizzato a volte in giovanni che flero anche se io non uso questo termine ma naturalmente di lui parleremo se siete d'accordo a ritorno dalle nostre meritate ferie natalizie